sono qui no qua ci mettono l'angolo di scuola riconosco di a capo c'è un breaking sull'arco possiamo giocarci da dirottoli di te ok puoi scendere ora credimi che chiamo tra 1 vai credito bo busta ma scatta 4 per esempio io questo vieni tuttavia ma ti spune al chat ma non ti spune, non ti spune nei duel muoviti, piglialo vai dall'altra parte taggalo, taggalo è cacciato GG